ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video dopo ovviamente il forno a microonde che vi ho fatto vedere adesso vi faccio vedere il mio forno questo qua della samsung vi dico già che questo forno va anche con l'applicazione che ha già scaricato il mio ragazzo qua dove vi faccio vedere registrata se riesco che ce l'ha nel suo cellulare vi faccio vedere questa applicazione che è questa e più o meno vi dice allora in teoria vi dice se non sbaglio solo se il forno è acceso se sta andando e più o meno che cosa avete messo nel forno o anche quanto manca di cottura e quando finisce e per cui vedete tutto qua nella clip che vi metto perché dato l'app l'applicazione che utilizziamo per questo forno è anche ottimo perché quando ad esempio sei fuori casa che avete il forno acceso vi indica che vi mando una notifica e vi dice che il forno ha finito la sua cottura allora io ovviamente per quelli che pensano che cavolo fai tu accendi il forno metti dentro che in sol panino e poi te ne vai no non era in quel senso l'altra volta per farvi capire dovevo pulire il forno perché c'è anche la pulizia del forno di due ore per cui ho messo due ore di pulizia di forno volevo andare a fare shopping ho detto ok lo faccio andare tanto ho l'applicazione io sono uscita dopo il mio ragazzo ha ricevuto una notifica dicendo che il forno è stato diciamo pulito e ovviamente si è spento da solo per cui ha questa funzionalità questo quello come funziona praticamente su su questo app adesso vi faccio vedere le funzionalità e praticamente come si si usa allora questo è il mio forno al display ed è anche touch vi dico già solo che ha due sportelli per cui uno è quello intero che aprite normalmente dove vedete voi questa ricca che divide è praticamente un secondo sportello dove potete mettere due pizze e invece di aprire uno sportello così e prendere la pizza e l'altra pizza basta solo schiacciare qua che c'è un tasto qui schiacciate il tasto prendete premuto e potete prendere la seconda pizza senza aprire quella sotto così almeno quella sotto si cuoce questa la prendete è già cotta per cui fa anche tipo anche da microonde questo è anche anche comodo per la per quando fai le pizze io di solito per adesso non lo sto usando comunque è molto comodo e è diviso in due sportelli come vedete poi basta fare come ho fatto io prima semplice tirate su questo è il mio forno allora giustamente adesso non so se si vede non penso comunque dato che l'ho utilizzato l'ho appena utilizzato allora i quelli che le teglie che sono dentro sono un po sporche ma è da è da pulire c'è la griglia le due teglie e questo che è quello che divide che puoi appoggiare anche cucinare e divide questo è il forno la pulizia del forno ve lo farò vedere in un altro video che così almeno sto video non dura tanto invece per adesso vi faccio vedere qua questo è la stessa cosa con il microonde basta schiacciare esce la rotellina anche qua schiacciate esce la rotellina vi indica anche che ore sono sono le 605 e vi dice anche che giorno è il 7 di marzo allora qua non vedete niente però quando girate la rotellina vi indica le cose adesso vi metto un po più vicini così almeno lo vedete meglio allora questo è il calore superiore più ventilato a 250 gradi se girate la manovella che è questa segnate voi la temperatura come vedete invece se cambiate ancora la rotellina no tornate indietro con la freccia scusate cambiate la rotellina vi dice come vedete qua ci sono i trattini cambiate solo la rotellina e poi cambiate qua sempre la temperatura con l'altra rotellina per tornare indietro sempre freccia questo invece è ventilato a 200 gradi se invece volete farlo un altro qua fa il grill grande a 220 potete cambiarla anche voi i gradi se no fa la cottura automatica la cottura automatica vuol dire che se voi schiacciate ok vi dice cosa potete mettere nel forno patate gratinate lasagne cosce di pollo patate al forno oppure le patatine surgelate al forno se per caso voi schiacciate ad esempio patate gratinate fate ok vi dice il peso e la teglia da utilizzare quando avete preso la teglia e dite ok il peso è giusto schiacciate ok poi vi dice utilizzate la griglia a livello 4 quando ovviamente aprite il forno ci sono i numeri non so se l'avete visti ma di fianco ad esempio qua non so se si vede qua c'è il 5 sotto c'è il 4 per cui il 4 è questo e voi dovete metterla sul 4 voi schiacciate ok l'avete messo sul 4 e poi schiacciate play cioè per inviare schiacciate questo e vi fa vi mette automatica già la i minuti ovviamente del di quanto devono andare le patate gratinate perché questo è già automatico per tornare indietro sempre freccia volete annullare annullare la cottura schiacciate si ok e premete ok e vi annulla la cottura poi se andate in giù sempre con la loro tellina questo ve l'ho fatto vedere se andate giù anche questo allora vediamo calo col ok ventilato no questo ve l'ho fatto vedere ok cottura automatica no vi ho fatto vedere già tutto anche questo per cui praticamente queste sono le funzioni è comodo perché se appunto andate sulla cottura automatica vi mette già come vi ho fatto vedere ad esempio andiamo sulle lasagne lasagne vi segna così schiacciate ok e poi vi dice che cosa dovete fare ad esempio aggiungere besciamella parmigiano per un tocco di sapore in più per farvi capire aspettate che faccio un po' di zoom così si vede schiacciate sempre ok e poi vi dice di utilizzare la griglia a livello 4 sempre ok premere invio cioè in senso per inviare e vi dice più o meno le lasagne sono di 10 minuti dovete aspettare 10 minuti per tornare indietro sempre freccia vi dice se volete annullare schiacciate si vuol dire ok se non volete annullare con la rotellina ovviamente potete cambiarlo questi sono i programmi mi ricordavo di più non so perché mi confondo sempre con il microonde e questi sono praticamente i programmi se volete chiudere di solito io questo lo chiudo schiaccio e si chiude così almeno non dà fastidio stessa cosa qua schiaccio se voi girate la rotellina e schiacciate questo vi dice anche le altre funzioni cioè timer poi ah scusate devo devo girarlo sbagliato timer dovete girarlo con la rotellina qua c'è il blocco per bloccare il forno le mie modalità il timer impostazione ora imposta data formato e ora e l'audio se invece andate su qui potete scegliere se usare quello sopra o quello sotto per cui di solito io usavo sempre così sopra però potete schiacciare una volta e vi dice che potete utilizzare quello sotto infatti se vedete cambia ah questo che non vi ho fatto vedere questo è praticamente smart attivato praticamente è il controllo del del telefono dell'applicazione per cui adesso io l'ho attivato e il mio ragazzo sta vedendo che io sto usando il forno in poche parole però io volevo farvi vedere ovviamente segna anche la torta di mele pasta sfoglia con le mele se no c'è questo qua lo rein pizza surgelata e pizza fatta in casa in teoria ci sono anche gli altri come avete visto questo è il mio forno sempre samsung e io direi che ovviamente quando utilizzerò il forno lo vedete nei blog adesso che vi ho fatto vedere le recensioni e tutte questi elettrodomestici della mia cucina ovviamente adesso è più semplice a farvi vedere i miei forni o tantomeno dato che faccio le ricette sul mio canale dato che faccio le mie ricette sul mio canale allora potete vedere anche come utilizzo il mio forno anzi mi sembra che l'avete visto se non sbaglio e niente queste sono le funzionalità le cose che dove potete utilizzare quando usate il forno e credo basta perché vi ho fatto vedere tutto vi ho fatto vedere l'applicazione è molto comodo perché specialmente se hai l'applicazione ad esempio sei in bagno oppure sei che ne so sono in cameretta sto montando un video il forno sta andando io so quanto quando ha finito e più o meno quanto manca perché mi sembra adesso non mi ricordo se segna anche quanto manca e se ha finito no di solito l'altra volta mi ha fatto vedere che aveva finito il forno però non mi ricordo se segna anche quanto manca e i minuti comunque vabbè tanto voi l'avete visto nell'applicazione di fianco dove ve l'ho fatto a vedere per cui è molto comodo ovviamente marca samsung credo che durerà tanti anni almeno più di 10 anni anche di più dovrebbe durare per cui ha voglia e niente io spero che questa recensione vi è stata utile se volete vedere la pulizia del forno perché in teoria c'è anche la pulizia del forno però non ve l'ho fatto vedere perché mi sono dimenticata adesso non mi ricordo allora ho provato a vedere un bel po' diciamo un bel po' di volte non riesco a capire il motivo perché non riesco a trovare la pulizia per il forno perché c'è la pulizia a vapore e la pulizia pirolittica cioè vuol dire che la pulizia a vapore è quella leggera dove versate 400 ml di acqua e vi pulisce invece quella pirotecnica che è quella che dura due ore e mezza dipende ovviamente con quante ore volete farla andare tra un'ora e cinquanta due ore e dieci o due ore e mezza è la pulizia praticamente per bruciare i grassi i residui dentro nel forno che queste due sono le funzionalità della pulizia infatti c'è scritto qua solo che non riesco a capire il motivo perché non riesco più a trovarli allora o che non me lo ricordo è probabile perché non c'è è da poco che lo faccio sulla pulizia di solito pulisco io però non riesco a capire perché non trovo questa funzionalità se riesco a trovarla ve la faccio vedere nel vlog che è meglio se no dato che devo fare la pulizia del forno vi farò vedere nel in un'altra in un altro video come si pulisce il forno sia con uno che con l'altro non so perché non riesco a trovare questa funzione però vi giuro che cioè vi dico che è qua giustamente non mi ricordo come si fa almeno che lo sta controllando tramite applicazione il mio ragazzo che sta vedendo che sto utilizzando il forno nel senso che l'ho acceso poi ho anche attivato l'applicazione perché con questo qua si attiva se no se no lo puoi disattivare però non riesco a capire dopo glielo dirò come mai non mi esce la polizia se no cioè volevo farvela vedere ma direi che non vi non mi esce proprio questa funzione vabbè comunque ve lo farò vedere appunto nel video della polizia detto questo spero che questo video vi è stato utile fatemi sapere se anche voi avete questo forno della samsung uguale almeno e se per caso lo volete comprare io adesso non so se si può comprare anche nei negozi perché io l'ho preso tramite cucina come avevo già detto anche nel microonde e per cui diciamo che più o meno dovrebbe costare sui mille passa euro perché questo è anche un forno professionale dove lo utilizzano anche i cuochi gli chef che vedete tipo master chef eccetera perché questo va utilizzato anche cioè utilizzano anche loro detto questo scrivetemi qua sotto nei commenti se volete sapere qualcosa e niente io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao